La misericordia è il primo attributo di Dio. Non ci sono situazioni dalle quali non possiamo uscire, non siamo condannati ad affondare nelle sabbie mobili. Lo afferma Papa Francesco nel libro intervista Il nome di Dio è misericordia, una conversazione con Andrea Tornielli, edito da PM e distribuito in 86 paesi. Nel volume, diviso in nove capitoli, è presentato martedì presso l'istituto patristico Agostinianum. Il pontefice illustra le ragioni che lo hanno condotto a indire un anno santo, dedicato proprio alla misericordia, rimarcando la sollecitudine che la chiesa ospedale da campo deve avere per l'umanità ferita. A intervenire alla conferenza lo stesso vaticanista del quotidiano La Stampa, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano e l'attore e regista Roberto Benigni. A me durante questo colloquio ha colpito di più una caratteristica che in parte già conoscevo, però mai avevamo dialogato con il Papa nelle precedenti interviste sul tema della misericordia. La capacità di mostrare il volto di un Dio che le prova veramente tutte per venirti incontro e per donare il suo perdono. Dunque un senso di vicinanza e di tenerezza. Credo che questo sia, spero, il messaggio più importante che passa attraverso le risposte di questo libro. Pio XII, più di mezzo secolo fa, aveva detto che il dramma della nostra epoca era l'aver smarrito il senso del peccato, la coscienza del peccato. A questo si aggiunge oggi, continua Papa Francesco, anche il dramma di considerare il nostro male, il nostro peccato, come incurabile, come qualcosa che non può essere guarito e perdonato. Manca l'esperienza concreta della misericordia. La fragilità dei tempi in cui viviamo è anche questa. Credere che non esista possibilità di riscatto, una mano che ti rialza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, ti inonda di un amore infinito, paziente, indulgente, ti rimette in carreggiata. Abbiamo bisogno di misericordia. È un libro bellissimo, è un libro in cui diciamo che ci accarezza, che ci abbraccia, che ci misericordia, con un termine inventato dal Papa. Perché la misericordia, attenzione, che non è una virtù così che sta seduta in poltrona, è una virtù attiva, che si muove, guardate il Papa, non sta mai fermo, che muove non solo il cuore, ma anche le braccia, le gambe, i calcagni, le ginocchia, muove corpo e l'anima, non sta fermo mai, va incontro ai miseri, va incontro alla povertà, non sta fermo un secondo. È un libro bellissimo in cui parla della vita e la vita cos'è per Francesco? Si sente che la vita è conoscenza, amore e una compassione infinita per il dolore che attraversa l'umanità. Questo è. È che la misericordia e il perdono è alla base del suo pontificato. E allora dice, se si perdona tutto però, allora la giustizia che ci sta a fare? Ma la misericordia, ce lo dice Francesco, è la giustizia più grande. La giustizia è il minimo della misericordia. La misericordia, diciamo, non cancella, non cancella la giustizia, ecco, non la abolisce, non la corrompe, va oltre. Un mondo con solo la giustizia sarebbe un mondo freddo, no? Si sente che l'uomo non ha solo bisogno di giustizia, ha bisogno anche di qualcos'altro. Non è nuovo il tema della misericordia, ma c'è un'urgenza che già i predecessori di Francesco avevano individuato. Ed è un mondo diviso da guerre, un mondo dove si vive la terza guerra mondiale, dove sembra prevalere l'odio o l'indifferenza. Il Papa ne ha parlato anche nel discorso del corpo diplomatico. Ecco, di fronte a questa situazione c'è bisogno, davvero, ha detto in un'omelia del primo gennaio, di un oceano di misericordia. Dunque è un messaggio che va oltre le singole persone, le singole vite, le vite delle famiglie e delle società, ma che riguarda anche i rapporti tra i paesi. Il messaggio del perdono è qualcosa che secondo me ha anche una valenza, tra virgolette, se vogliamo, politica. E lo aveva ben capito Giovanni Paolo II che nel messaggio per la giornata della pace, poche settimane dopo gli eventi dell'11 settembre, l'attacco all'America, aveva detto che non c'è pace senza giustizia, ma che non c'è giustizia senza perdono.